Ehi, scusa se ti ho svegliato, ma visto che sei sveglio, volevo solo dirti che stai andando alla grande. So che a volte è difficile, ma sei arrivato fin qui, quindi stai facendo qualcosa di giusto e diventerà più facile, succede sempre. Quindi tieni duro e continua ad essere una piccola superstar. Visto che sei anche sveglio, ci hai fatto una cioccolata calda. Beh, in realtà era per me, ma per il disturbo e per averti svegliato. Ecco a te, la lascio qui. Quindi passa una buonanotte e ci vediamo la prossima volta. Beh, tu non mi vedrai, io vedrò te, tu non vedrai me, quindi buonanotte.